Portorifugio Baia Santa Panagia verrà rifinanziato il progetto di assicurazione dal Ministro Salvini e dal Presidente Schifani. A Regione, l'On. Reggilistro, al momento non esistono le risorse per finanziare il progetto definitivo degli interventi urgenti di ripristino della struttura della diga forane nel portorifugio della Baia di Santa Panagia a Siracusa. Sarebbe superfluo e forse anche ingeneroso ricordare che negli ultimi cinque anni avevo ampiamente e ripetutamente avvertito del rischio concreto della perdita del finanziamento, ma al solito non sono stato ascoltato a causa della superficialità e della indolenza miscata alla sonnolenza della percezione dei pericoli della siracusanità tutta nel suo complesso. L'opera inserita nel patto per lo sviluppo della Sicilia FSC 2014-2020 non è stata mai aggiudicata e l'appalto integrato è ancora in essere per un importo di 4.600.000 euro. E' noto a tutti che il 31 dicembre 2022 serviva l'OGV, cioè l'obbligazione giuridicamente vincolante in assenza della quale non possono più essere utilizzati i fondi a disposizione, quindi il caso nostro è l'appalistiano. Manca la giuridicazione e di conseguenza manca l'obbligazione vincolante, quindi correttamente ha operato l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa. Ho già sentito il Presidente Schifani e il Ministro delle Infrastrutture che ha anche le competenze sui porti e ho chiesto loro nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti di rifinanziare il progetto nell'ambito dell'attività che il Dipartimento delle Politiche di Coesione sta mettendo in atto per la programmazione della politica di coesione europea. I tavoli tecnici per il coordinamento istituzionale della politica di coesione finalizzati alla sottoscrizione di accordi di governo regione dovranno necessariamente concludersi entro la prima decada di settembre ed è chiaro che in questi tavoli tecnici le opere già in fase di appalto con un progetto esistente che manca soltanto dell'aggiudicazione della gara avrà sicuramente la precedenza. In questo senso si sono espresse positivamente sia il Ministro Salvini che ha competenza specifica sui porti, per quanto il Presidente della Regione affinché l'opera potrà essere inserita nel format che darà la precedenza alle opere da finanziare immediatamente. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo.